Tempo, tempo, vai tu. Jean-François, tocca a te. Lindelon! E dai, ti muovi o no? Salve. Per fortuna che non sei mio fratello. Ciao, io mi chiamo Michael e tu? Come ti chiami? Chi stai cercando? Sono Claire, la mamma di Marten. Ma ci conosciamo. Mi hai vista al centro. Ah, scusa, la mia memoria fa schifo. Tuo fratello viene giovedì, Michael. Buongiorno. Salve. Va tutto bene? Direi di sì. Noi altri ci siamo guardati un film. Marten e Gabi... Ciao, Claire. Laurent. Magnificamente. Jean-François, non dirmi che è un altro stadio olimpico. Fanno le prove. Ragazzi, sto entrando. La luna in cielo. La luna in cielo. La luna in cielo. Stai con me. Se stai con me. Il cielo splendido. Marten, pensi di essere in spiaggia? Ora è asciutto? Sì. Non è asciutto. Io devo aspettare. Sono asciutti i vestiti. Si asciugati in fretta dell'enne, visto il mio bello rano. Ecco appunto. Ma all'enne si usa per i capelli. Mia mamma lo usa per tingere i capelli. Ma quello... Quello macchia, non si può toccare. Senti, mi spiace. Ma no, non è un problema. Non è grave. Sono esuperante. Tu pensi che... Beh, pensi che si siano toccati? Oh, santo cielo. Gabriele, hai toccato il pene di Marten? Oh, no, no. Io non ho toccato il pene di Marten. Non si sono toccati. Ah, ecco. Tanto per sapere. E i tatuaggi sono finti. Allarme è rientrato. Giusto, tatuaggi finti. Il rossetto.